Sulle cause del tragico evento registrato nel primo pomeriggio di ieri all'esterno della fabbrica di fuochi d'artificio di Blasio Fireworks di Caprafico, frazione di Teramo, che ha portato alla morte di Dino Trignani, 62 anni di Castilenti, a un mese dalla pensione e ferito un altro dipendente, è stata aperta un'inchiesta dalla procura. Nel frattempo è stato disposto il sequestro di tutta l'area in cui è avvenuto l'incidente. I carabinieri hanno già avviato la raccolta della documentazione di tutte le autorizzazioni necessarie per questo genere di attività. Si tratta di autorizzazioni molto complesse e articolate, vista la pericolosità dei materiali che riguardano non solo le aree interne, anche quelle esterne. Le due persone coinvolte erano un'area esterna di prova a circa 800 metri dallo stabile della ditta, che viene usata sia per le prove di nuovi prodotti e sia per l'eliminazione degli scarti. Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri sembra che stessero provando dei nuovi fuochi d'artificio. Trignani, ritenuto operaio esperto, aveva già fatto una prima operazione che si era conclusa senza problemi. Nella seconda, invece, qualcosa non è andato così come avrebbe dovuto. L'esplosione è stata violentissima e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. È riuscito solo ad urlare all'altro di scappare. Gli altri dipendenti erano all'interno dello stabile in cui si trovano gli uffici. Hanno raccontato di aver visto il vetro delle finestre rompersi. È stato il 43enne di Basciano addetto alla manutenzione al magazzino dipendente solo dall'unidì scorso dell'azienda a dare l'allarme dopo essersi allontanato di corsa. Un drammatico evento che riapre la già grande ferita delle morti sul lavoro. Iniziamo l'anno con questa trattica notizia purtroppo in un settore fortemente provato, in un settore fortemente all'alto rischio in cui non si riesce a capire perché ancora accadono queste cose e non si riesce a capire anche il perché accadono. Quindi bisogna, noi abbiamo già un tavolo istituzionale, all'imprevettura CGLG su Will, bisogna accelerare su quello che ci siamo detti. Ma purtroppo bisogna fare delle linee guida e bisogna cominciare ad avere delle certezze su quello che si fa. Uno sportello magari alla ASL, anonimo, dove quelli che lavorano nelle piccolissime aziende possano denunciare perché molto spesso hanno paura, con l'anonimato perché poi hanno paura delle risorsioni. E bisogna veramente darsi da fare perché non è più il tempo di parlarne di queste cose, ne abbiamo già parlato tanto, è il momento di agire.